Della frutta, della verdura, degli animali, tutto, con la logica biologica, secondo me è un'arte faticosa, è un'arte non facile come quella dello spray, dei pesticidi, però è un'arte che ti dà la possibilità di respirare e non ti fanno male. E poi rinasce e capire che effettivamente il cervello è rattutito, ha tanti muscoli e i muscoli quando sono allenati ti fanno fare questo movimento, è un gesto che sveglia il tuo cervello, perché pompa, ossigeno e il pensiero corre di più, voi sentite che vengo verso di voi, io se ho paura, se no che posso venire verso di voi e posso scappare dal drago che arriva dietro e il movimento mi fa sentire più vivo, mi muove. Grazie. Grazie. Grazie.